Siamo in presentazione delle ragazze Quindi un numero 3, 2, 3, 9 S'è una peggiata Con il numero 1, 2, 3 Picasso con il numero numero 4, un po' di gaspini con il numero numero 7, un altro di per con il numero numero 19, un po' di 0, 5, un po' di gaspini con il numero numero 19, un po' di 0, un ascegente con il numero numero 8, un po' di gaspini con il numero numero 4, un 6, un po' di gaspini con il numero numero 3, un po' di gaspini Con il 6, 9, 9, Benzio Luz! Con il numero 7, 7, Ficoletta! Con il numero 8, Yoshida Lanz! E con il numero 8, 2, Ficoletta! L'ultima parola, l'ultima, come il numero 8, il primo, Bobo Bepa! Infantilina, di Dotto! E di Dotto! Adostante, Dotto e Pazza! Un applauso per il Dotto! Un applauso per il Dotto! E di Dotto! Adostante, Dotto, Liri, possiamo colgire il recenso di Dotto! Il palo del Dotto! E magari sei tagliate in casa! Quindi, rilascia con il Dotto! E di Dotto! E di Dotto! Esti facciamano di Dotto! Con il numero 2, 2, 2, 6, Lanz! Grazie. 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 quindi abbiamo rispettato che siamo stati arrivati a un'area di 16 mesi sia a... che io non mi chiediamo... questa è la prima parte di questa stagione e mi ha detto che la nostra vera è che se gli ospitali hanno dato oggi la speranza di sbocci di una lega e soprattutto quelli di un po' e le solitarie di un po'. C'è la primissima... che ha un'altra domanda di più e di altri che comunque sono ai primissimi valori. All'inizio andiamo già con questa stagione con le arti svegliate, ha dato grandissima un'altra domanda di una città di più e di più. Ecco, intendo che io andiamo a realizzare un'altra domanda. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie. Mangial Sciences quindi abbia dato un po' anche in base alla scuola con la via di questi Kah gran sottoparo Beh,äus garderà gli studenti dell'arice fiererdessa, essere dara assistibile e dà attenzione Con l'intestzione vi condireかなattthat del nostro coach, oggi l'ho votata. Guardava un progetto è un progetto per la tua service e non ha qui da capo che è l'unico che è l'unico che è l'unico e sta sempre qui da capo che è l'unico di nuovo che è l'unico per ragionare che cosa vuoi dire invece di Bobo? questo è l'unico settimana anche Bobo è fuori il tempo di sera e la scuola e la scuola francese che ha giocato spesso con le tue e la scuola francese quindi sarà una sorpresa per vedere un po' di gioco francese che è un pochino più la scuola francese o un pochino più abbiamo qui avuto un pochino un pochino un pochino un pochino una cosa una cosa un pochino un pochino un pochino Grazie. 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 Sulla jetline delle arti si metterò uno, due e l'elettro di un errore. Questa ritardò una corruzione, la pace dal motore, da un altro il giorno. La dottere la sede è una fredda, un altro il giorno. Sulla jetline delle arti si metterà il mondo. Sulla jetline di passione, vengono uscire, prendere la musica e calore di fare ilgenommen. e adesso punto, 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 l'uomo c'è questo? brugger e volete giocare di sbattare e ascoltano la fine e dice vabbè, tutti a zero vabbè ed ecco abbiamo il primo e abbiamo il primo Tutto il porto di nuovo, pensi il mondo G, sulla G 5-5-5 5-5 6-5 6-5 7-5 7-5 8-5 10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 11-5 11-5 11-5 12 13 14 14 15 ma adesso è un po' del perché kept in piedi.. le borlight in cima stav ne a scować e dei brenti l'anima.. le borlone.. the bar, le borlone.. le borlone.. il po' di cendere.. inzich.. 4 punti.. recheck.. Sulla generale, abbiamo per la prima volta oggi il Novità. Non è un nuovo generale. Grazie 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 Sous Grazie a tutti. 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 Buon risultato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Sono passati. Grazie a tutti. Grazie. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , 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 ,,, , ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, C'è uno specie di installazione umana in questo momento, con il giro non è un giudice. è la prima. E' la prima parte della regia che è riuscendo a ripartamento. Picasso! Ciute! E' il senso. Quattro punti a zero per un po' no! Vediamo cosa succede in questo momento. Ragazzi, i francesi mi sembrano aver preso il nuovo bananità. Mi sono usate di avversario il 26 al 27. 7, 7 e 8, un official time out, un official time out viene chiamato perché è una situazione di gioco con altri eventi spiegabili, lo sappiamo che avete concentrati perché non abbiamo dei giorni, ma anche se non solo pensare che la situazione si è accettata grazie a tutti, quasi tutti italiani che vedono oggi, vengono a parlare dei vicini e quindi vengono a parlare anche una vicenza da Durino, Inclued, da Toro, che è fatto con il mondo. Respira. In questo momento abbiamo il son, forse qualche potente di streaming video sulla pagina di una notizia che ci fa davanti a moltissima mano per ci sentire, iscriviti, iscriviti. Tutto il suo padre ha fatto sentire quella qua e i ragazzi siamo pronti a vedere un altro soggetto, dato che stanno proteggendo, perché vedo i temi, ma sono sicuro che ci sono 4.000 chiedenti di subito, e in un altro soggetto, perché ci sono 4.000 chiedenti di pubblicare, se ci state seguendo su Urbino, abbiamo un segno di pubblicare, ma anche in questo modo, a dire che ha all'infinito il punteggio per lo che vediamo questa nottà di 6.000 chiedenti di regola in questa partita oggi, con il primo risparmio di l'arrivo di appiccino, l'attualizzazione di 86 punti a 27, devo giocare un piccolo a 18, un'attualizzazione di 4 minuti a 15 punti a 15 punti a 15 punti a 15 punti. Devo dire che è una partita miglia, è una partita abbastanza pubblica, le appiccino sono particolari, le aziende non sono qualcuno in più, però abbiamo visto cambiare le loro oggette in modo da gestire questo ammaticamento, in questo momento stiamo ancora assolutamente qualche problema sullo scoreboard, qui c'è questo video di Spana. di Spana. Saranno 4 minuti lunghissimi, e lo scrivono di 4 minuti del video, perché? perché è un po' questo che fa, e tutti gli amici stati scecnici, comunque, è un'attualizzazione della partita, le ragazze devono ritornare a dove c'è una azione, quindi, sentate il comune, e tutte, facciamo un grandissimo applauso a questi, più quelli di Spana. La partita abbastanza pubblica, e tutti i tempi sono stati pubblici, ma qui piazzati tutti i suoi, mentre loro gestono tutti gli aspetti via. Bene, quindi se vuoi partire, diamo un giardone sul standboard che non è mai successo prima, ma non ci scrivono lo stesso, ma non ci scrivono lo stesso, ma non ci scrivono. Quindi, quanto minuti e ancora subito, mai sai cominciai, centai, ma non ci siamo ancora, non è ancora più. Volevo il tempo in piedi, ora ho fatto il nostro genio, un'avversaria che abbiamo già conosciuto, non ha avuto un'attività. Grazie a tutti e 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 a tutti. 했습니다. ... ... ... ... ... il gioco ha brato all'interno di un gioco e il gioco vale il gioco e il gioco non ha scattato quindi montale non vanno tutti e con un'inizio torneva questa pratica la generalizing è nato adiamo al crash in una postata sette in motto Grazie. Votter, 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 Votter. Votter, Votter, Votter. Votter, 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 Votter. 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 Votter, Votter. Votter, Votter, Votter. Votter, Votter. Votter, Votter, Votter. Votter, Votter. Votter, Votter, Votter. Votter, 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 Votter. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Vediamo se il fronto sede è un altro dip e vediamo questo effettamento bianco proprio al giugno sulla Genova Line si può raccogliere un bel livello, 7 e 8. E' iniziato il Genova, un nuovo modo da scoprire un ruolo di chi, non ferma, con accedi, non impedisce, ma è un bel livello, ma è un bel livello, ma è un bel livello, ma è un bel livello. Un po' di buro, 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 non riesce a prendere la linea, la linea è un po' di buro, 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 la linea è un po Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. ... 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 ...... 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